Questo è l'evento finale di un progetto europeo di formazione che ha coinvolto 5 università e 10 companies, 10 industrie. L'obiettivo di questo progetto era promuovere l'innovazione e la ricerca nei materiali innovativi in modo da rispondere a precise esigenze delle industrie. Questo evento vuole essere in qualche modo una vetrina per i risultati della ricerca di questi 15 dottorandi che hanno lavorato all'interno di questo progetto e un modo anche per presentare a loro l'innovazione all'interno delle aziende e quindi cosa c'è dopo il dottorato. Dopo il dottorato loro troveranno un mondo del lavoro e questo workshop vuole essere un modo per mettere in contatto questi giovani ricercatori con il mondo del lavoro e quindi creare dei legami, una sorta di networking fra loro e le aziende che sono specializzate nella ricerca e nello sviluppo di materiali innovativi.